Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, finalmente, vi posso parlare della Sony FX30 Cinema Line. Scusate se mi copro la faccia, ma l'Alfa 7 IV mi metterebbe a fuoco gli occhi, quindi devo fare un po' come le make-up artist e farvi vedere la roba così. È una vita da quando è stata presentata la FX3 che io vorrei un corpo della Cinema Line. E adesso vi spiego, dopo la sigla, perché l'ho acquistata. Allora, fino ad oggi, da quasi due anni, anzi, da due anni ormai, il mio corredo era composto dalla fantastica Alfa 7 IV, che per me, per come lavoro io, è la macchina ibrida perfetta, perché si occupa, come nel mio caso, sia di produzione foto che video, ma io faccio al 90% video, però la volta che ho bisogno di fare delle belle foto che poi amo fare, anche per conto mio, quando vado a fare i viaggi, eccetera, questa è fantastica. E quindi avevo la Sony Alfa 7 IV e la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. Macchina paurosa, tirava fuori il RAW. Il ProRes di qualità mostruosa in una roba che fondamentalmente costava poco. Però mi ero stufato di dover portarmi sempre appresso il doppio corredo. Cioè, io volevo comprare una lente che potessi mettere sull'Alfa 7 IV e poi anche sull'altra macchina. Una batteria che potessi utilizzare su una macchina e sull'altra. Perciò, sono passato ad avere un corredo primario totalmente a marchio Sony. Perché mi trovo bene con Sony. Se voi mi trovate bene con Canon, bene. Se vi trovate bene con Fujifilm, bene. Io mi trovo bene con Sony. Allora ho deciso di ampliare con una macchina Cinema Line. Quindi pensata totalmente per il video. Quando uscì la FX3 ero molto, molto, molto triggerato da quell'uscita lì. E' sicuramente una macchina clamorosa. Poi, quando è uscita la FX30, ho detto, però, il Super 35 è un formato di sensore con cui sono abituato a lavorare. Perché la Blackmagic aveva un sensore Super 35. E' anche un po' più nuova, quindi ha qualcosina in più. Ho trovato poi, ero sempre ancora lì a ponderare i due modelli. Poi a un certo punto ho trovato un'offerta su RCE nuova. Un'offerta incredibile. E ho detto, lanciamoci. Ed eccola qua. Allora, prima di sproloquiare tre ore, non scenderò nel tecnico su mille dettagli, mille numeri, il codec, il B3. Sì, ovviamente saranno argomenti che affronteremo in maniera abbastanza marginale. Voglio raccontare più che altro quella che è la mia esperienza d'uso. Perché tutto quello che fa questa macchina lo trovate tranquillamente su una scheda online. E quindi non vi direi nulla di più. Quindi, come al solito, pregio e difetti. Allora, la cosa che ho amato di più, nell'ordine proprio quando l'ho tirata fuori dalla scatola, è com'è costruita. Sta roba qua è costruita per essere anche un'arma. Perché se te la do in testa, ti corco, cioè ti faccio veramente male. È una macchina veramente robusta. Ora non so, sarà di adamantio, non so il materiale con cui è stata costruita. Ma è veramente una pietra sta roba qua. Ed è costruita molto bene. Ha tutto quello che serve. Ha le filettature già sul corpo macchina. E queste filettature sono molto comode perché essendo Cinema Line, quella roba qua, tu qui puoi attaccare le luci, puoi attaccare i microfoni, puoi attaccare quello che ti pare. E quindi è comoda perché non devi per forza mettere una cage che comunque bene o male costa sempre un centinaio di euro se la compri buona. Se non la compri buona ti si spezza. E quindi è buono perché già si vede che è proprio pensata per un utilizzo video. Se no vabbè Cinema che cazzo l'avrebbero scritta a fare. Poi è anche raffreddata con una ventola. E quindi puoi stare a girare anche per svariati momenti, non c'è neanche il limite del minutaggio. Questa è una macchina da presa proprio, quindi tu puoi girare otto anni di fila. E questo sistema di ventole terrà la tua macchina ad una temperatura che non la farà liquefare. E questo è molto comodo perché ogni tanto quando mi sono ritrovato in condizioni di molto caldo con la 7.4 a girare per un po', l'icolo del suo riscaldamento si è attivata. Qui non potrà succedere mai perché è ventilata. Poi ha lo schermino totalmente articolabile con una cerniera incredibilmente solida e tutta la costruzione mi sembra proprio ben fatta. Ha l'impostazione dei pulsanti, classica di tutte le Sony, non mi soffermo. Ma ci sono delle differenze. Finalmente il pulsante menu l'hanno portato, o vi metterò dei close up fatti come Cristo comanda, perché questa roba qua è inguardabile, però per capirci, il pulsante menu l'hanno spostato di qua. E questo è comodo perché quando la impugni tu vai sul menu e poi navighi. Non è più da quest'altra parte. Da quest'altra parte hanno messo l'on-off, che è sicuramente più comodo rispetto a questo abominio che c'è di solito sulle Sony per accenderle e spegnerle. Adesso questo bilanciotto qua, con le lenti ovviamente predisposte, va a fare quello che è il classico zoom da telecamera nelle lenti che lo prevedono. Tipo il 18-105 f4 dovrebbe farlo. Poi qua sopra ci sono tre pulsanti riprogrammabili, però già le funzioni che le ho dato di default per me sono molto comode. L'apertura, il white balance e gli ISO. Fantastici. Poi una figata delle figate è il pulsante REC. Ce ne abbiamo uno qua, qui, e ce ne abbiamo uno qua davanti. E uno può dire, ma qua davanti... Aspettate, ok, qua davanti. Che ti serve? Perché? E ti serve sì, perché se ce l'hai su uno spallaccio, tu puoi andare ad avviare la registrazione da qua, senza dover slogarti la colonna vertebrale. Ed è molto molto comodo. E soprattutto questa macchina è pensata per gli scemi. perché quando voi andate ad avviare un REC, adesso non so neanche se c'è la schedina dentro, c'è una schedina dentro, noi andiamo a dare REC, ok, noi la avviamo, andiamo ad accenderla, se noi andiamo a dare REC, vedete che si illumina il pulsante di sopra, ok? Si illumina, anzi, ve lo faccio vedere meglio. Bene, un quadrato rosso intorno allo schermo, si accende questa roba qua che sembra lo stop delle macchine, il pulsante REC in alto si illumina e anche da davanti avete un pulsantino, avete un leddino rosso che vi fa vedere che siete in modalità di registrazione. E questa è una cosa comoda perché così non vi potete sbagliare. Se sbagliate vi dovete dare dei coglioni da soli perché questa ve lo dice cento volte se state o non state registrando. Veramente una figata. Cosa non mi piace di questo corpo macchina che è fantastico, il doppio slot, un'impugnatura solidissima, cioè finalmente le mirrorless hanno un'impugnatura valida. Adesso non so se è esattamente come quella della F7IV, ma secondo me sì, ma veramente, io quando giro in matrimoni soprattutto non ho spallacci, non ho... giro molto a mano o su gimbal, non ti stanchi, la macchina rimane qua. Cosa non mi è piaciuto, veramente l'unica cosa che non mi è piaciuta è la posizione del joystick che l'hanno messo qua. Sicuramente l'ho preferito come l'Alfa 7IV e ce l'hai qui. È veramente l'unica cosa. Quindi sicuramente il lato costruttivo della macchina alla pose un secondo è qualcosa che io promuovo al 1000%. Poi che cosa abbiamo tra le cose che mi piacciono? La qualità d'immagine. Ora, non mi soffermo molto, però ha un sensore stabilizzato, egregiamente stabilizzato, retroilluminato da 26 megapixel, che, coadiuvato dal nuovo processore Bion XR, sembra si chiami... Non vi frega un cazzo di come si chiama il processore. Vi importa sapere che funziona bene. ci consente di tirar fuori delle immagini allucinanti. Possiamo girare al massimo utilizzando le schede a quelle belle in 4K, che però proviene da un readout del sensore 6K, quindi è un 4K ma che proviene da un 6K, quindi è una qualità già incredibile, 422 a 10 bit fino a 500 megabit al secondo, girando in PAL. Se girate in NTSC come gli animali, avrete 600 megabit al secondo. Però, la qualità è devastante. Doppi zonativo, a 800 ISO, e a 2500 ISO, la ripresa è pulita. Pulita a 2500 ISO. È importante, ricordatevelo, che se siete a girare a 2000, mettetela a 2005, perché la ripresa sarà comunque più pulita. e ha anche la funzione fantastica del CineEI, Exposition Index, faremo un video dedicato, perché sennò durerebbe 8 anni, che è una figata. È un po' come ritornare a come si esponeva a pellicola, come se io l'avessi mai fatto, però, nel senso, quello è il discorso. Purtroppo, mi sarebbe piaciuto provare, e mi piacerebbe provare, qualche camera a pellicola, spero di aver l'occasione di farlo, più avanti. Un sistema di messa a fuoco, da 495 punti bestiale, sistema di autofocus, è clamoroso. Io ho usato questa macchina, con il 2875, che adesso è sulla 7.4, con un tocchina 20 mm, con un 1728 Tamron, ed è fulminio. Non oso immaginare, con lenti proprietari di Sony, cosa possa fare questa camera. Veramente incredibile. C'è anche la risoluzione del problema del focus breathing, questo respiro del fuoco, che non si risolve, che magari, quando vado a un piano all'altro, ha questo rigonfiamento, che sembra proprio un respiro, la macchina, salvando i metadati, va a compensare questa roba qua, ed è una figata, figata, veramente, una bomba. Possiamo caricare fino a 16 LUT personalizzate, che non verranno scritte sul file. Noi il file lo avremo comunque in log, ma nello schermino avremo una previsualizzazione, dell'immagine con le nostre LUT, con cui abitualmente giriamo. Quindi non possiamo neanche sbagliare l'esposizione. Anche perché su questo ci ritorneremo dopo, perché è tra i lati negativi. Quindi, abbiamo detto, qualità di immagine incredibile, abbiamo mille codec, ve li leggo, cioè veramente, se andate nel menu, e premete menu, e andate su formato file, voi potete girare in XAVCSS1 DCI 4K, in XAVCSI HD, in XAVCSI 4K, in XAVCSHD, in XAVCSI 4K, e in XAVCSI 4K. Ci sono 800 miliardi di codec che vanno dal allintra long hop, non scendono in dettaglio, sennò diventiamo vecchie, sta roba qua dura troppo tempo, e TikTok vi ha abituati ad ascoltare poco. Quindi è veramente uno spettacolo. Gira in 4K, fino a 50 fotogramma al secondo, può girare anche a 100, ma c'è un crop importante, di 1,6, e se non volete crop, potete girare in full HD, fino a 200 fotogrammi al secondo, con una leggera perdita di qualità, ma se il video andrà su i social, che come ci insegna Boris, smarmellano un po' tutto, ci frega nulla, perché comunque la ripresa rimane di incredibile qualità. Ora io qua, mi sono segnato tutta una serie di cose, per evitare di dimenticarmene, ho fatto proprio i compiti, su il taccuino del videomaker, mi sono segnato una marea di roba, ma direi che abbiamo detto tutto quanto. Ovviamente l'S Cineton, l'S Log 3, tutti i cazzi che vi possano venire in mente, e una gamma dinamica di 14 stop. Ora, mi capirete, io non ho modo di misurare 14 stop di gamma dinamica, però ho gli occhi e quando vedo le riprese che metto nello schermo del PC, mi rendo conto che la gamma dinamica è tanta ed è ben sfruttabile. Perché comunque nelle ombre, quando poi le vai a riportare a essere ombre, quando magari applichi una latte, oppure vai tu a fare il grading, o tutte e due le cose come di solito faccio io, nel nero, quindi nell'ombra, non esce fuori la merda. È un bel nero, molto cinematografico, ok? Non sono delle ombre troppo italiane. Chi vuole capire, capisca. Stanis, la Rochelle. Detto questo, la camera è una bomba. Per quello che viene via, è veramente una gran camera. Anche perché, prima di arrivare ai difetti, se voi ci attaccate un ninja, non il giapponese che fa le acrobazie, ma il monitor, l'Atomos Ninja, con un cavo HDMI che finalmente in nome di Dio è quello grande, questa roba gira il Rochelle. Quindi, ok, la Blackmagic lo girava internamente, ma non aveva tutta la roba che c'è qua dentro, ora arriviamo ai difetti, però, Blackmagic, che io continuo a consigliare tantissimo, perché quella è una macchina da cinema a niente, a meno di 3.000 euro, che si può portare a casa qualsiasi stronzo sulla terra. Quella rimane una roba con una qualità di mangiare una pasta fantastica, per quanto io preferisca lavorare con Sony, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah, sì, vi tira fuori il Rochelle attaccata a un recorder esterno, quindi qualora vi dovesse servire, il Rochelle con questa potete comunque farlo attaccandola al Ninja. Arriviamo però a quelli che sono i lati dolenti. Fortunatamente pochi. Il primo è la posizione del joystick sopra, è una merda da dover andare a schiacciare, perché quando nella 7.4 lo attivo mentre ho la macchina da presa in mano col pollice comodo, lì devo un po' sloggarmi l'indice per andare a richiamare il joystick. Non è intuitivo e soprattutto io, come tutti i fotografi, videomaker, eccetera, dopo un po' che conosci i corpi macchine lavori con la memoria muscolare. E qua non va bene, perché col pollice io continuavo ad andare a cercare un joystick che era messo da un'altra parte. Era meglio lasciarlo dove era. L'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è la mancanza di strumenti un pochino più fighi per l'esposizione. È una cinema line, mortacci vostri, di Sony. Ci avete scritto cinema line. È un waveform, un false color. Niente. Cioè l'istogramma, l'esposimetro, la possibilità di guardare con i tuoi occhietti nello schermo con una loot di previsualizzazione come sarà la ripresa, ma soprattutto il false color che io adoro tantissimo sulla Blackmagic, uso sempre, manca qua. Mi rendo conto che avere il false color qua mi manca. Non ce l'hanno messo. Pazienza. E poi direi che altri grossi difetti, a parte il joystick e quella mancanza lì, non ci siano, perché fondamentalmente è una camera che durano anche tanto le batterie, in cui durano tanto le batterie, che montano a marea di ottiche e che funziona bene. Hanno ancora implementato il menu all'intervallometro interno se vuoi fare i timelapse, scatta foto, sì, con l'otturatore elettronico, ma non comprate questa macchina per fare le foto, compratevi la 7.4 o anche una 7.3, non comprate questa macchina per fare le foto. È una macchina che lavora benissimo, benissimo, sotto tutti i punti di vista. costruzione, feeling, è una macchina che ti fa venire voglia, tu la prendi, la tiri fuori dalla borsa e ti fa venire voglia di andare a girare e questo è importantissimo perché è un mezzo, questo qui è un mezzo, è un oggetto che tu compri per lavorare e ti fa venire voglia di andare a lavorare, di girare e non è una cosa da poco, non è una cosa da poco. ne riparleremo di questa macchinina qua più avanti ma devo dire che ci ho fatto un piccolo cortometraggio per un concorso, un matrimonio e qualche test e veramente, veramente ho trovato un'anima gemella costruita in adamantio, veramente tanta, tanta roba. Sono veramente contento, Sony non mi paga per parlarvene bene però ve ne devo parlare bene. Parte la posizione di merda del joystick, il fatto che manchino degli strumenti di esposizione come Dio comanda, il fatto che magari questa filettatura qua messa qua dallo sportellino non serva a niente, questa è una macchina fantastica, veramente fantastica e non potevo non comprarla. Adesso ho un'ottica qua che posso mettere lì, un'ottica lì che posso mettere qua e io mi diverto adesso, cioè non devo più tribolare, adesso posso girare come ho sempre voluto fare e questa è una cosa molto molto importante. Ragazzi, grazie per la chiacchierata, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale se no gli perdete le cose. Ciao!